Musica Ciao, sono Chiara, oggi vi porterò a scoprire il festival delle sali di Asti. Cosa si tratta? Sono centinaia di migliaia le persone che ogni anno, attrette da una manifestazione unica del suo genere, accorrono ad Asti per espirare l'atmosfera di un mondo antico. Musica E' il mondo contadino tra 8 e 900, raccontato dal festival delle sagre astigiane, che domenica 13 settembre 2015 festeggia la sua 42esima edizione. Musica Si inizia di prima mattina con la sfilata storica che quest'anno non si è potuta svolgere a causa della pioggia nelle vie cittadine animata da 300 figuranti in costumi d'epoca. Musica Ogni paese con la sua prologo mette in scena il lavoro nei campi misteri, le feste contadini e liti religiosi, dalla vendemmia al batesimo e dalla battitura del grano alla festa di leva. Musica La sfilata termina in piazza Campo del Palio, dove decine di casette, una per ciascuno prologo, disegnano i confini del villaggio che arriva ad ospitare fino a 300.000 bongustai, provenienti dall'Italia e dall'estero. Musica E quest'anno, tra i 300.000 bongustai, ci sono anche io e la mia vita. Musica 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 It's funny how we've changed Musica From what we were those days Musica I told you that I loved you Qui, un piccolo esercito di cuochi prepara e serve al pubblico facentemente in fila il menù più ricco e variegato di ogni tempo. It was just a heat wave, it was just a heat wave. It was just a heat wave, it was just a heat wave, it was just a heat wave. It was just a heat wave, it was just a heat wave. It was just a heat wave, it was just a heat wave. Se quest'anno non siete riusciti ad andare, mi raccomando ricordatevi l'appuntamento dell'anno prossimo, la seconda domenica di settembre. Se il video ti è piaciuto metti un bel pollicino lì in su e iscriviti al canale. Ciao a tutti!